Facciamo un po' di chiarezza sul tema delle antenne. Il tema delle antenne è un tema cogente oggi ma che in realtà si è sviluppato ed è nato tanti anni fa. Nel 2006 non a caso il Comune di Fano tra i primi ha fatto un piano per le antenne nel 2016 il regolamento. Nell'ultimo anno e mezzo ci sono stati degli sviluppi normativi che rendono difficile l'attuazione del regolamento precedente. Ora in base a questo riusciamo a capire perché non solo a Fano ma in tutto territorio locale e nazionale, vediamo Pesaro e vediamo anche gli altri territori a noi limitrofi e anche in giro per l'Italia, c'è il problema delle antenne. Operatori che inseriscono le antenne in luoghi che non sono deputati idoni del Comune. Il Comune come il Comune di Fano fa causa e la perde. Noi abbiamo visto che abbiamo perso due cause al TARA anche adesso e stiamo pagando le spese legali. Non possiamo continuare così. Di contro abbiamo giustamente i comitati come Alfenile e come a Carignano e altri probabilmente ne nasceranno che insurgono e protestano. E hanno ragione e fanno bene. Cosa significa? Significa che bisogna fare qualcosa di completo e analizzare la situazione in modo pragmatico e tecnico. E così abbiamo fatto. Abbiamo chiamato Polab, una società a cui daremo l'incarico. Adesso dobbiamo preparare una delibera di giunta per fare rapidamente questa sintesi. Polab come società dovrà redigere un nuovo regolamento che adatti quello precedente e lo renda adatto al nuovo sviluppo normativo. Non solo. Gli chiederemo delle cose in più. Delle cose in più a tutela dei cittadini e del territorio che aiuti noi a governare il territorio. Quindi una mappatura dell'inquinamento elettromagnetico e della copertura delle antenne. Poi chiederemo una misurazione periodica dell'inquinamento elettromagnetico che pubblicheremo sul sito in modo che ognuno possa dire Bene, io sono in questo punto della città. Che inquinamento c'è? E questa è una tutela. Non solo. Gli abbiamo chiesto anche di darci la disponibilità per delle conferenze e dei convegni. Ci è piaciuta come società per due motivi. La grande professionalità, il fatto che stanno operando anche a Pesaro ed è bene omogeneizzare il territorio. Dal punto di vista ambientale dobbiamo abituarci a trattare queste tematiche in maniera sincrona. In più è una società che non ha mai lavorato né con i comitati né con le equità work company ma sempre con le amministrazioni. E questo dal mio punto di vista è garanzia di equità ed è quello che ci serve in questo momento. Dopodiché ci darà anche assistenza per la redazione delle pratiche. Questo è quello che vuole fare il Comune di Fano per affrontare il tema, per gestirlo al meglio. Veniamo al problema di questi giorni che è le antenne di Carignano. Uso il plurale perché? Perché una è stata costruita e realizzata, per l'altra è stata presentata una domanda. Ora il Comune di Fano è riuscito a fermare temporaneamente la domanda. Perché? Perché in passato Iliad, che è la società che aveva fatto la richiesta, aveva inserito come sito un sito che tramite delibera del Consiglio Comunale avevamo reso idoneo, anche a seguito di un confronto con Iliad stessa. Ed era un sito che si trovava nella zona industriale, ben a un chilometro di distanza da dove è stata presentata l'attuale domanda. Reso idoneo quel sito, che era quello individuato dal piano delle antenne che ogni compagnia presenta a inizio anno e in seguito al quale noi un attimo capiamo come poter interloquire e gestire le domande dell'operatore, è stata presentata la domanda specifica per l'antenna davanti al cante di Montevecchio, che non era assolutamente il sito che noi avevamo richiesto, usando lo stesso codice di domanda. Quindi è forse una cosa tecnica un po' complessa, però il punto è che noi abbiamo per questo motivo fatto una domanda di integrazione a Iliad chiedendo come mai avesse deciso di cambiare il sito e quindi la pratica è temporaneamente ferma. Speriamo di non dover andare in giudizio, speriamo nel frattempo di riuscire ad attivare tutto questo processo di gestione del territorio al meglio. Purtroppo il Comune di Fano, come altri comuni, si ritrova con le armi un po' spunte, ma non ci diamo per vinti e i comitati servono tantissimo per individuare alcune criticità e darci manforte.